Siamo con Francesca Messina di Arabian Horse Journal, rivista specializzata nel cavallo arabo e in questo caso sponsor per la categoria Campionato Nazionale Puledre. Perché sponsorizzare questo evento? Intanto questo è un campionato nazionale, di conseguenza è uno dei più importanti per l'Italia, qui c'è il meglio dell'allevatoria italiana, è una qualità incredibile, quasi tutti i più grandi allevatori d'Italia hanno partecipato numerosi, è un posto stupendo, quindi è doveroso essere qui, qualità di giornale specializzato nel puro sangue arabo. Immagino ci sarà anche un bel reportage dell'evento poi? Assolutamente sì, corposo, come merita, un evento del genere organizzato splendidamente, con dei cavalli stupendi, delle persone stupende, dei grandi professionisti, quindi sicuramente sì. Grazie molte.